Patrizia Cioburro oggi presentate questa iniziativa con l'amministrazione comunale di Pescara rivolta alla terza età, alla popolazione anziana per così dire. Esatto, sì, esattamente. In effetti noi siamo nati e lavoriamo quotidianamente per assistere la madre ed il bambino, ma il nostro statuto nazionale ci dice che lo dobbiamo fare dalla nascita alla morte naturale, l'accoglienza della vita, la difesa della vita, eccetera. Quindi nessun arco, nessun momento della vita umana ci è sconosciuta. Questa volta la sensibilità è stata rivolta particolarmente agli anziani, mi spiego meglio, agli anziani soli. Saranno 10 cittadini di Pescara, forse anche 12, 13, noi abbiamo detto 10 nel bando, ma possono anche essere di più. Verranno assistiti due volte a settimana per un'ora e mezza ciascuna volta da un operatore qualificato del CAV che si mette a disposizione per l'ascolto e per l'accompagnamento. Assessore, un occhio particolare soprattutto in estate, soprattutto in questo periodo, per gli anziani, gli anziani soli nella città di Pescara e come amministrazione comunale e con il suo assessorato. Avete oggi presentato questa iniziativa davvero lodevole. Sì, non lasciamo indietro nessuno e questa volta toccano gli anziani. Anziani che abbiamo tutti dentro casa, abbiamo una mamma, una nonna. Abbiamo persone che ci hanno permesso di lavorare, abbiamo persone che ci hanno aiutato a crescere i nostri figli. Allora dobbiamo restituire sicuramente a loro un qualcosa di bello. E questo è quello che abbiamo pensato in questo progetto, cioè dargli compagnia, farsi una passeggiata e dire una parola, una parola di conforto. E questo era il minimo. Vediamo come va questa iniziativa, perché sicuramente loro meritano tutto l'anno di avere un qualcosa di diverso. E quindi se va, io propongo di farlo anche prossimamente, per Natale, per Pasqua. Vediamo un attimo.